Ha deciso di collaborare con gli inquirenti e le sue dichiarazioni potrebbero dare una decisa svolta alle indagini. Quelle sull'omicidio dell'84enne Anna Rosa Tarantino, l'anziana uccisa per errore nella sparatoria avvenuta il 30 dicembre scorso nel centro storico di Bitonto. Giuseppe Casadibari, ventenne con precedenti per droga, rimasto ferito nel conflitto a fuoco, è adesso un collaboratore di giustizia e potrebbe fornire elementi importanti per risalire all'identità degli assassini. Il giovane è stato dimesso due giorni fa dal policlinico di Bari dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico a caso di un polmone perforato da un proiettile. Per la direzione distrettuale antimafia sarebbe stato lui il vero obiettivo dei killer, un agguato compiuto in risposta ad un'altra sparatoria avvenuta la stessa mattina dell'omicidio davanti all'abitazione di un pregiudicato in via Sandro Pertini. Due episodi che, secondo gli investigatori, potrebbero essere ricollegati ad una nuova guerra tra clan rivali per il controllo dei traffici illeciti sul territorio. Alla luce della sua recente collaborazione con gli inquirenti, Casa di Bari è stato inserito in un programma di protezione. Anche la sua famiglia si trova in una località protetta, lontana da Bitonto.